Nella città di Oliviero, Real San Clemente e Nuova Fetta da novità recupero della sfida della 21ª giornata che era stata rimandata per un incidente stradale a corsa giocatore Eugenio Sebastiani dei Nuova Fetta Calcio. Si gioca in otturna a causa dell'assenza di illuminazione nell'impiantistica di San Clemente. La sfida si disputa sul neutro di Misano per la precisione al Misano Football City, ubicato in Via dei Platani. Ringraziamo apertamente in primis la dirigenza del Real San Clemente che ci ha permesso tramite autorizzazione di poter riprendere il match da bordo campo. Ringraziamenti dovuti anche al direttore di gara e ovviamente alla società ospitante. In Nuova Fetta arriva a giocarsi in recupero con la consapevolezza che in caso di successo aggancerebbe il primato in classifica seppur in coabitazione con i Granata. Il Real San Clemente è consapevole che con i giallobru si giocano a Sans per poter sperare ancora nella salvezza. Ma una cosa va detta sui rosso-blu di casa, l'ultimo posto in classifica inganna e non poco. La squadra è viva e come, solo che paga Dazio in una stagione davvero sfortunata. Parola sfortuna che verrà costata anche alla Visanova Fetta, seguendo il racconto di questo match che è ripreso per l'appunto da bordo campo, ci darà qualche immagine curiosa sperando che il nostro lavoro, unito alla nostra creatività, in una posizione obiettivamente difficile di ripresa, possa comunque soddisfarvi. Dopo due timidi tentativi da una parte e dall'altra, la partita si sbrocca a minuto 12 del primo tempo. Il lancio di Mamutai viene stoppato da Muratori, tocca l'indietro dall'attaccante per l'inserimento perfetto di Fabrizio Cupi che, presentato sui a tu per tu con Raffaelli, infila il pallone nell'angolo a sua sinistra. Per il terzino ritorna a gol e abbraccio con il tecnico Fabri e con tutta la panchina amica. La replica del sangriamente non si fa tendere, perviene direttamente a calcio piazzato, il pallone però termina alto. Sul versante opposto, una nuova incursione di Muratori porta al tiro cross quest'ultimo con Raffaelli che smanazza il pallone calciato dall'attaccante. La squadra di Bianchi, subito lo svantaggio, continua a credere nel pareggio. La concursione di Albani neppure a dimostranza, Semplini alza la sfera. La squadra si sbilancia e Tassini qui nel tentativo di perfezionare il disimpegno e osserva Gori una ghiotta occasione, il terzino spara al lato. Muratori è assoluto protagonista del match, lo diviene anche battendo semplicemente un corner che porta una misca nell'area piccola, quella dice che viene chiuso sul più bello. Pressing offensivo costante degli ospiti, ma Mutai apre per Gori, il terzino da posizione di filato indovina l'angolo, ma Raffaelli risponde presente, mentre Pecci dalla distanza prova a impensierire così Semplini. Nulla di fatto, Tassini invece spostatosi sulla fascia, tenta la solo personale, buon metronomo, ma mira da rivedere. L'episodio da Moviola su fine di tempo, la discesa di Gori viene premiato dall'ottimo inserimento di radici che fa gridare al gol i tifosi giallobru presenti dietro la recinzione della porta difesa da Raffaelli, ma sulla linea di porta Cenci evita il possibile colpo del K.O. Squadra riposta sullo 0-1, primo piano per il terzino Gori della Nuova Felti a stretta di mano con l'assistente giallobru Mariani e sull'allenatore Bianchi che palla con il direttore di gara esprimendo la sua su alcune situazioni di gioco. In Nuova Felti non riesce a chiudere il match, San Clemente rimane ancora in partita rispondendo con tentativi della distanza. Dubbi sul salvataggio sulla linea di Cenci, ma dalla nostra posizione è impossibile rivalutare l'azione fornendomi un replay adeguato per poter quantomeno concedere il dubbio allo spettatore. Calcio d'avvio affidato al Nuova Felti a calcio. Primo acuto di marca locale, la punizione di Albani viene bloccata da Semprini. Il numero 11 è ancora protagonista con questo traversone che chiama la presa a terra Semprini. Da punizione dopo un fallo subito da Barbati, San Clemente torna a colpire, Semprini blocca a terra. Il Nuova Felti replica con la discesa che porta alla strattonata di Radici per opera di Ciuffi nell'occasione a Monito. Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore per il Nuova Felti. Dagli 11 metri i muratori che di nome fa Willy, sistema il pallone, si concentra per poi al momento del fisco e addirittura di gara a battere Raffaelli. Per il 2-0 ospite è tanto di felicità per il gol numero 13 di stagione. I tifosi dietro la porta di Semprini continuano a far festa, ma qui inizia l'accostamento con la sfortuna. Balducci si fa male alla spalla, in attesa di risonanza magnetica, rimane da verificare il suo infortunio. Della conseguente punizione se ne occupa Muratori senza portare pericolo alla porta difesa da Raffaelli, ma proprio il numero 10 in corsa sentirà un attimo dopo tirare il polpaccio e non a caso, come da certamente gli scontrati, stagione finita per lui per uno strappo muscolare proprio al polpaccio. Accompagnato negli spogliatoi dai compagni di squadra. Emente nuovamente pericoloso al calcio piazzato, Buffone metà dura prova all'attenzione di Semprini. Spazi che si aprono delattamente, così Gori è libero di spingere, serve al centro radici. Raffaelli nega la gioia del gol all'attaccante, sulla ribattuta in 98 Baldinini viene murato dalla retroguardia di casa, ma il gol è nell'area. Ennesimo traversone di Gori, spaccata davanti a Raffaelli, si presenta Mamutai che trova il tris. Per il giocatore, Ito Labanese è finalmente una gioia in stagione, abbracciato e festeggiato dai vari compagni. Gli animi a un certo punto si accendono in casa sancremente, a fare le spese sono un dirigente un membro della panchina allontanante anzitempo dal terreno di gioco. Ennesima discesa di Gori, questa volta a servire Cupic da posizione favorevole calcia alle stelle. Mentre Tassini dall'altra parte mette al centro questo pallone raccolto in un secondo momento dal compagno Barbanti che in girata mette a lato. Termina qui una gara vinta meritatamente da Nuova Fete, ma onore merito anche a sancremente che fin quando è rimasto in partita è riuscito a rendersi pericoloso alla sua maniera. Nuova Fete conquista la vetta e quella abbraccia a fine match con la propria tifoseria porta dietro le retrovie il passaggio veloce di un treno quasi a indicare che la grande sans persa nella scorsa stagione si è ripresentata passando per la seconda volta in zona in questa. Ora più che mai tra infortuni vari ci vorrà il cuore oltre l'ostacolo. Buona fortuna.